Sì va bene, io non conosco quelle radio lì, comunque con due watt e complimenti, poi il 5-6 è buono, va bene, saluto, buona domenica, buoni collegamenti con il TRP, è stato un filtro, non so se vuole parlare, o se no dobbiamo ancora tempo da 4, prego, ci accortiamo poi in piena libertà. Roger, grazie, Italia Zulu 4, Victor Quebec, che si era riprendendo. Ripassatemi il nominativo che sto facendo il video, così rigiro il video al collega e lo rendo edotto delle dimensioni enormi di questo apparato e del setup. Grazie ancora e ripeto, buona domenica, Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portatile QRPP. Sì, allora sei pronto per partire con la registrazione? Il Z1, Nensi, Italia Zulu 4, ripeto, il Z1 novembre X-Ray, il mio nome è Giacomo, domo d'osso l'estremo nord del Piemonte. Vai Franco immediatamente. Sì, ok, io sono in provincia di Torino, esattamente a Irrasca, non so se non è, comunque vicino a Pinarolo, il nominativo è Italia, Zelanda, Polo, Sierra, Bravo, Nensi, Z1 Savona, Bologna, Napoli. Avanti, Z1 4. Roger, vi ringrazio, se avete le mail in chiaro sulla pagina qrz.com, vi mando, vi rigiro oggi pomeriggio il video, che ho un collega miscredente che dubitava sull'efficacia del dipolo, ho detto guarda, la proviamo subito. 73, ancora buona domenica. Grazie, non scappa. Sì, come ripeto, vedete che magari tra una scatoletta e l'altra ci sono differenze di mezzo a punto, ho sentito tanti che uscivano molto male, molto male. Alberto, buona domenica, ci sentiamo dopo, se fai qualche altra frequenza, un abbraccio, ciao. Senz'altro, senz'altro faremo attivazione ancora, faremo attivazione e poi faremo anche gli onotette. Ciao Fiorentino, grazie caro. Ciao, Alberto, alla prossima, si sta parlando l'Occidente, ciao. Italia Zulu 4 Avanti Zulu 4 Buongiorno, Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile QRP, QSL Benissimo Alessandro, portatile QRP, grazie a te, ti ascolto bene Alessandro. Io due costruo Oscar Umberto, quell'aeroporto di Milano di Nate, ti ho messo all'operto e ti ho inviato la Melco e Selle, nelle frecce tricolori. Caro Ale, a te, prego. Ti ringrazio, buona giornata, buona domenica, 5-9 più 10 il tuo rapporto, grazie ancora. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Grazie a tutti